Nell'ambito della collaborazione tra Fondazione Famiglia Dono Grande e l'Ordine dei Frati minori dell'Umbria lo scopo è promuovere la crescita umana, spirituale e culturale degli sposi e di quanti operano nel mondo della famiglia. La Fondazione offre desidera realizzare e testimoniare il proprio carisma che riconosce nella famiglia il soggetto protagonista nella vita della Chiesa e del mondo, sostenuta e fecondata dai doni spirituali dell'Ordine dei Frati minori. La comunità francescana di Santa Maria degli Angeli desidera declinare e riattualizzare un aspetto centrale del proprio carisma. Va e ripara la mia casa che come vedi va e rovina in una dimensione quanto mai urgente come la pastorale familiare, supportata e arricchita dai doni spirituali della Fondazione. Le attività sono offerte a coppie di sposi, seminaristi e sacerdoti, consacrati, singoli, formatori con particolare attenzione a non sostituire nulla di ciò che già viene fatto nelle singole diocesi e con l'intento di offrire ai partecipanti la possibilità di crescere per poi tornare nel loro territorio e divenire soggetti promotori di formazione umana, culturale, teologica e spirituale, in favore della coppia e della famiglia. Prossime attività in programma Il corso per operatori di pastorale familiare con i fidanzati Dal celebrare all'essere sacramento delle nozze Incontro di rilettura critica dei corsi di preparazione al matrimonio che si svolgerà da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno 2014 Il pellegrinaggio per famiglie Ai luoghi francescani di Assisi Sulle orme di Francesco e Chiara Che si svolgerà da domenica 29 giugno Alla sera di sabato 5 luglio 2014